A tupe me mando me dee, o yawaye noji, i meijawakbepi mando doketo ye, yawaye noji ahi, a tupe me mando me dee, pepe yawaye noji. Credo che sicuramente nei due interventi sono già immerse moltissime cose interessanti, ma c'è tutto l'altro aspetto che adesso Sergio praticamente ci ha riportato ad un punto dove la questione della scelta della persona e poi del sistema, eccetera, diventa un momento di nuovo cruciale. Io vorrei ridare la parola a Pasquale, partendo proprio da due cose che ieri con diversi venivano sottolineati. Alcuni di voi già se ne parlavano, ieri ci sono stati dei fatti che, al di là dei discorsi interessanti con Pasquale, eccetera, due momenti che sicuramente hanno interrogato molti. Il fatto dell'autofinanziamento della comunità, del villaggio per costruire la casa del re, che è una scelta, palazzo reale. Pardon, palazzo reale, in un contesto estremamente povero, con i bambini, eccetera, eccetera. Perché si arriva come persone, come villaggio, come comunità a fare certe scelte? Ugualmente in un contesto dove c'è un voodoo così forte, la stessa comunità però arriva a comprendere, a capire, a valutare l'importanza di avviare, sempre con autofinanziamento, la costruzione di un dispensario. Che potrebbe anche essere un momento letto in contraddizione con lo stesso riferimento all'importanza del voodoo stesso. Quindi torniamo al punto dell'importanza della scelta della comunità, del ruolo della società civile, del ruolo delle istituzioni nel definire poi certi passaggi che riportano a un sistema di conseguenze, di ricadute in quello che è il contesto globale. Seguendo l'indicazione di Guido, cerco di dare una possibile pista di risposta. Effettivamente io sono stato molto contento, anche se tormentato, nel visitare il villaggio ieri. Non è la prima volta che vedo una cosa del genere, ne ho visti tanti, però ogni volta mi sento lo stomaco in subbuio. Effettivamente quello è però un esempio molto paradigmatico delle contraddizioni e dei problemi che si trova di fronte uno che si preoccupa. Allora, noi siamo un gruppo di persone che si preoccupano. Senza voler troppo semplificare, è chiaro che là uno può avere un atteggiamento molto diverso. Uno può avere un atteggiamento, effettivamente, se io fossi un assoluto relativista, un relativista convinto, dovrei dire che il valore della monarchia locale, il valore del voodoo, la spiritualità di quella gente, e la loro serenità e la gioia che li porta a condividere questi valori, costituiscono il centro della loro vita e non avrei nessun diritto a criticare il modo in cui loro conducono la loro esistenza. Perché effettivamente potrebbero essere persone molto felici. Che diritto ho io di intervenire. Potrebbero essere, noi gliel'abbiamo chiesto, ma potremmo scoprire, vivendo con loro, che sono persone felici. Che vivono in grande amicizia. Che si rispettano tutti quanti l'uno con l'altro. Che hanno una rete sociale molto forte. Sono molto solidali fra di loro. Che hanno questa monarchia, ma che benignamente la monarchia provvede ai problemi principali del villaggio. E che, tutto sommato, quindi, le nostre preoccupazioni potrebbero essere assolutamente infondate. Questa è una semplificazione, ma potrebbe essere una visione molto relativista. Se io fossi veramente relativista e coerente col mio relativismo, non dovrei preoccuparmi praticamente di nulla. Io so, potrebbe essere una comunità, potrebbe essere, non lo so, dico, ma potrebbe essere una comunità che vive in perfetta armonia. Se questo fosse il punto di vista che noi accettiamo, dovremmo tornare tutti a casa nostra e preoccuparci dei fatti nostri. Assolutamente. Ecco perché io non sono relativista. Io purtroppo non sono relativista. Qualcuno lo è e io lo rispetto molto. E un punto di vista, naturalmente, ci sta il punto di vista estremo, ecco, prima di presentare il mio, il punto di vista estremo è quello che abbiamo fatto in passato. In passato c'è stata invece una visione, la visione appunto, la vorrei chiamare, la visione della modernizzazione. Noi abbiamo in passato fatto, e abbiamo questa responsabilità sulle spalle, al di là del colonialismo, dell'imperialismo e quindi dei vantaggi che noi abbiamo ottenuto come Occidente nel intervenire, nel creare queste rotture culturali ed economiche all'interno di queste comunità, credo che abbiamo comunque lavorato con una mentalità appunto della modernizzazione. noi portiamo la modernità, andiamo lì nel villaggio e con i nostri standard tecnologici e culturali riportiamo, diciamo, la comunità su un sentiero di modernizzazione. Va bene? Ora, ovviamente è inutile stare a criticare questo approccio che abbiamo conosciuto in passato, perché qua tutti quanti, come condividiamo la preoccupazione, condividiamo la critica per questo tipo di intervento violento, prevaricatore e fallimentare. Quindi non c'è bisogno adesso che vi racconti io i danni della modernità, della modernizzazione e di tutti i suoi corollari. Però, ecco, come dicevo Scille e Cariddi, io credo che stiamo navigando in uno stretto braccio di mare compreso fra questi due mostri per me. La modernità come paradigma, la tecnica, perché poi volevo anche rispondere a Nevio, la tecnica come soluzione, perché io non vedo la tecnica come soluzione, e dall'altra parte il relativismo che ci condurrebbe a tornare a casa. Ci condurrebbe a tornare a casa. Le ragazze là da canti dovrebbero andare via, per esempio, se fossi. Perché loro hanno partorito per millenni senza le ostetriche. Per millenni i bambini sono nati così. Che problema c'è? Perché mai dovremmo andare noi a insegnargli come si partorisce o aiutare a partorire? Quando per millennio vanno nella foresta e partoriscono. Perché? Che problema c'è? Allora, qual è la difficoltà? Quindi oggettivamente io mi trovo in difficoltà. Ammetto di essere in difficoltà perché queste due visioni purtroppo sono ormai le due prevalenti. Perché c'è il pensiero unico della modernità. Ma purtroppo io mi confronto tutti i giorni con un'espansione forte del relativismo. E io sono preoccupato altrettanto che della modernizzazione. Mi fa paura sia il relativismo che il paradigma della modernizzazione. Io che cosa farei in una condizione del genere? È veramente molto difficile. Però appunto io credo che... Io credo appunto, e questo già l'ho detto, riprendo appunto le cose che dicevo lunedì. Credo che ci sia... Che bisogna evitare di cadere nelle due situazioni estreme. Credo che ci sia una componente relativa di rispetto delle differenze culturali. Una componente di relatività necessaria per il rispetto, per le differenze. E ci sia allo stesso tempo, e anche per la sovranità. Perché pensiamo alla questione della sovranità. Cioè la popolazione è sovrana nello scegliere il tipo di vita che vuole condurre. Abbiamo parlato l'altra volta del tipo di vita che uno conduce. Ma io sono sovrano nel decidere che tipo di vita vorrò condurre. E questo deve essere sempre rispettato. Allo stesso tempo però io... Credo che ci siano delle componenti che non chiamerei assolute perché non mi piace come termine. Però delle componenti che invece mi piace chiamare universali. E mi piace chiamare umane. Nel senso che credo che ci siano delle componenti del tipo di vita che ognuno conduce. Che non sono riconducibili a fattori locali e culturali nel senso di comunitari. Ma credo che siano riconducibili al nostro essere umani. E vedo in questo invece una componente universale. Perché credo che tutti gli uomini... In questo ci credo. Io credo nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Credo che in tutti gli uomini, a prescindere dal luogo in cui nascano. Che poi uno nasce in un luogo per caso. A prescindere dalla cultura a cui appartengono. Perché uno poi appartiene da una cultura per caso. Hanno fondamentalmente il diritto a un minimo di diritti. Scusate, mi gioco di parola. Hanno diritto a un minimo di condizioni di vita. Che a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Deba essere garantito. Da chi deve essere garantito? Questo è un problema. Da chi deve essere garantito? E questo è il dibattito sui diritti umani che ci sta. Chi è che garantisce che cosa? L'esportazione? Effettivamente questa è un'altra cosa delicata. Non voglio adesso affrontarla. Però in ogni caso, come prima approssimazione, mi sento di dire, sulla base di tutta la letteratura che c'è, da chiunque sia in grado di farlo. Io mi sento moralmente tenuto a occuparmi di sostenere il conseguimento di questo minimo, su cui si può discutere quanto è grande questo minimo, laddove sia possibile e laddove io abbia la percezione che ci sia una grave violazione di questo minimo. Che non riguarda molte cose secondo me, ma riguarda due o tre cose essenziali che credo assolutamente universali. Fra queste, per esempio, ci sono due o tre cose che ho detto prima. Per esempio, si può discutere sui modelli alimentari e sulle differenze, però credo che la malnutrizione, che porta a una vita breve e a molte malattie, credo che in un certo livello di salute, anche con medicine tradizionali, io, pensate, curo mio figlio con l'omeopatia, quindi immaginate che fiducia ho nella medicina tradizionale, però con qualsiasi mezzo possibile, come di norme igieniche di base, tipo avere l'acqua pulita, queste cose qua, credo che questi diritti, questo blocco minimo di diritti, discutibile ma comunque abbastanza incomprimibile, sia un dovere morale che chiunque in grado di garantire debba perseguire. Allora, rispetto a ieri, per esempio, è chiaro che uno si deve chiedere che cosa fare, cosa non fare, nel rispetto delle culture, però a me, io, come dire, senza nessuna critica di nessun tipo alla monarchia del villaggio, o al voodoo, o a qualsiasi altra cosa, credo, per esempio, che se avessi la bacchetta magica, così rispondo a Enzo, se avessi la bacchetta magica, a parte che non la userei io, la farei usare a quelli del villaggio, comunque, quello che cercherei di fare è un sostegno forte alle condizioni di vita dei bambini, per esempio, se dovrebbero fare tante altre cose, però quello, sapete, per me è un ottimo punto di attacco. Perché è un ottimo punto di attacco quello? A parte appunto che i bambini non sono in grado di provvedere a se stessi, quindi comunque hanno bisogno di un aiuto, per cui non mi sento di violare la loro sovranità nella solità delle loro famiglie, se per esempio cerco e riesco a migliorare la condizione di salute di questi bambini. Però quello è un punto di attacco importante per tutte le connessioni che conduce a un miglioramento complessivo delle condizioni di vita. Sviluppi il ragionamento. Allora, in un'ottica molto di emergenza, io potrei andare là e distribuire delle vitamine, dei pasti integrati con delle vitamine, costruire la scuola, costruire il dispensario. In un'ottica di emergenza, in un'ottica molto mercantile, va bene? Non sarebbe sbagliatissimo perché eviterei che questi bambini muoiono prima dei cinque anni, quindi forse lo farei anche in un'ottica di emergenza, ma non in un'ottica di miglioramento sostenibile, durevole anzi, delle condizioni di vita. Che cosa farei invece io per avere una cosa più sostenibile sul lungo periodo, perché poi si è orito il pacco di vitamine e i bambini sono di nuovo male? Io, per esempio, attaccherei il punto centrale relazione madre-figlio, perché secondo me in molte di queste situazioni è il nodo gordiano della faccenda. Molti studi hanno dimostrato che i bambini sono in queste condizioni perché, al di là della mancanza di mezzi di sostentamento, che non è tanto grave, perché se tutti i soldi, vedete, i mezzi là ci stanno, cioè i soldi, se tutti i soldi del palazzo avessero trasformati in cura ai bambini, forse i bambini non sarebbero così. Quindi, vedete, non è un problema di mezzi di sostentamento, apparentemente è un problema di povertà di reddito. In realtà, forse, se il reddito fosse utilizzato in maniera diversa, cosa che noi non abbiamo il potere di fare, non dobbiamo fare, non dobbiamo dirgli non fate il palazzo, fatelo, altra cosa, però se quel reddito fosse utilizzato in maniera diversa, forse i bambini non sarebbero così. Però il modello culturale è quello e non possiamo cambiarlo, non dobbiamo cambiarlo. Però possiamo attaccare un altro punto, possiamo attaccare, attaccare nel senso proprio di attaccare un fattore che limita le condizioni di vita dei bambini, che le rende peggiori, dal mio punto di vista universalistico, perché quelli c'hanno i vermi, i vermi ti fanno avere delle condizioni di salute terribili, a parte appunto che le altre malattie sono connesse. Allora, qual è il problema madre e figlie? Quindi anche agire sulle donne, quindi donne e bambini. Donne e bambini in molti casi è il nodo da attaccare subito, perché è chiaro che il comportamento quotidiano delle mamme, perché sono loro che si occupano dei bambini, i maschi in questi contesti si disinteressano completamente per cultura dei bambini, le mamme hanno totalmente a carico la salute dei bambini. Allora, il modo in cui le mamme crescono i bambini è cruciale, quindi se voglio migliorare la condizione dei bambini devo agire su quello che fanno le mamme. Perché le mamme allevano i bambini in quel modo lì? Gliel'abbiamo chiesto, praticamente la mamma saluta il bambino la mattina e lo vede la sera, non si preoccupa di cosa fa il bambino durante tutto il giorno, il bambino torna la sera a casa e forse mangia qualcosa, stop. Non c'è molto altro che viene fatto per il bambino. D'accordo? Quindi il bambino vaga per conto suo tutto il giorno. Allora, che cosa posso fare? Perché, ecco, riprendo anche una cosa che ho detto l'altra volta, poi chiudo. Che cosa posso fare? Posso attivare le risorse interne al villaggio. Le risorse interne al villaggio per i bambini sono le donne. Allora, come attivo la risorsa donna per la cura del bambino? Beh, tutti gli studi, tutti gli esperimenti fatti, i progetti falliti, quelli riusciti eccetera eccetera mostrano chiaramente che quando la donna che ha la cura del bambino in una comunità di questo tipo ha quel tipo di posizione sociale e cioè una persona sostanzialmente subalterna completamente alle logiche maschili da un lato, dall'altro lato ha completamente negato qualsiasi accesso alla conoscenza e qualsiasi partecipazione attiva al mercato del lavoro, questo tipo di contesto è la madre di un bambino malato e che muore prima di cinque anni. Allora devo agire su questo tipo di fattori qua. Allora, naturalmente non condivido l'analisi di Pasquale e che l'ho sempre pensato che un economista è necessariamente etnocentrico. L'esperienza di ieri è molto interessante, molto ricca perché ci permette di toccare che cos'è l'immaginario. Quando abbiamo parlato e Donata ha fatto una domanda l'altro ieri, ma c'è che cos'è l'immaginario nel medesimo tempo quando Aminata Traore parla di viola dell'immaginario e quando tu parla di decolonizzare l'immaginario e colonizzare l'immaginario, sì, sono convinto che è quasi il medesimo senso, non solo perché Aminata Traore è un'amica, ma anche perché abbiamo parlato su questo tema. Allora, due cose mi hanno colpito ieri. La cosa naturalmente del palazzo reale. Quando hanno detto avremmo voluto offrire al nostro re un palazzo più bello, allora ho pensato che noi italiani nel Medioevo o nel Rinascimento, quando i sienesi hanno costruito il Duomo, l'hanno trovato troppo piccolo, hanno voluto fare un Duomo gigantesco ancora più bello. avremmo voluto offrire al nostro Dio un palazzo ancora più bello, non hanno potuto farlo perché non hanno avuto abbastanza soldi, era talmente gigantesco. Ma allora va detto che l'immaginario con il quale eravamo colonizzati in questo tempo era quasi il medesimo immaginario che abbiamo incontrato ieri. Era quasi... Ora abbiamo un altro... E la seconda cosa che mi ha colpito, molto interessante, è il discorso di Patrick. L'ho molto apprezzato perché per me è la prima volta che davanti ai bianchi un africano riconosce che la cosa più importante ora in Africa è la stregoneria. Questo non si parla. Si parla della povertà, dei bisogni essenziali, della miseria, eccetera. Il problema numero uno degli africani nelle campagne e nelle città, non solo nelle città, basta leggere i giornali di Douala nel Cameroun, il problema che preoccupa la gente 24 ore su 24 ore non è la miseria, non è i bisogni, non è il dispensare, non è la scuola, è la stregoneria. Allora, se si vuole fare qualcosa, si deve fare come il padre jesuita, Eric di Rosni, che si è fatto, lui si è fatto un ganga, feticheur, stregone, si diciamo, che si è fatto iniziare per capire, per aiutare, per fare le cose, per rimediare. Ma si deve capire che naturalmente la stregoneria ha sempre esistito, ma la stregoneria si è sviluppata in un modo terrificante negli ultimi anni, perché le società africane sono in crisi, precisamente in crisi di valori, perché c'è il conflitto tra i valori della modernità che sono più o meno imposto dalla forza con la colonizzazione o la seduzione dello sviluppo, con questo che precisamente è ciò che la minata ha chiamato il viol dell'immaginario. Lei non ha detto che i valori della modernità sono auspicabili, perché sono il risultato di un imperialismo culturale. Un imperialismo culturale. E allora, in questa situazione di crisi, la stregoneria diventa una cosa spaventosa che si sviluppa sempre di più, perché tutte le famiglie, tutte le strutture sono in crisi e il risultato di questo conflitto di valori prende la forma della stregoneria. E' interessante che anche qualcuno di occidentalizzato, di molto accolto come Patrick, che ha detto che anche lui deve fare con vivere, che di sicuro c'è qualcosa di... E sì, ma anche questo non è molto... Esiste ancora da noi. C'è un libro bellissimo in Francia che si chiama La stregoneria nel boccaggio, scritto da Jeanne Favressada, che è la stregoneria nel boccaggio. Nel boccaggio, c'è la zona della campagna francese vicino le mont La Mayenne, tra la Normandia e l'Ile di Francia. E lei ha fatto una tesi di dottorato sulla stregoneria, ha studiato cosa... E alla fine i contadini l'hanno considerato anche lei come capace di lottare contro i stregoni. E l'hanno chiesto di... E racconta tutta questa vicenda, come questa vicenda è legata alla politica agricola europea, la PAC. E che com'è la situazione dei contadini. in questa situazione di crisi trovano soltanto una soluzione attraverso la stregoneria. Allora... No. Penso che la cosa importante, la prima cosa più importante è capire, prendere coscienza che il nostro modo di pensare che va bene per noi perché viviamo in questo immaginario e che prendere coscienza che il nostro immaginario è il risultato di una forma di colonizzazione che non è la... Non abbiamo la verità, la verità, la soluzione perché la nostra medicina è una forma di voodoo diversa e con dei risultati molto discutibili. Posso ricordare il bel libro di Ivan Illich, Nemesis, e recentemente in Francia il professore di Belpom che ha fatto questo bel libro queste malattie generate dall'uomo e lui allora ha chiesto ma Illich aveva scritto e ha detto sì, sono d'accordissimo con ciò che ha detto Illich, diciamo al 90%. Grazie. Grazie.